signore e signori ben ritrovati con il trading club buon inizio di settimana a tutti rieccoci pronti per ripartire insieme una grande settimana dunque qualche informazione di servizio come facciamo sempre prima di avviarci verso temi più pratici ed operativi vi ricordo innanzitutto che c'è stata come penso abbiate già visto qualche modifica all'interno dell'academy come sempre per renderla più facile più foribile più interessante per tutti voi se ci fosse qualche aspetto da sistemare fatecelo assolutamente presente ogni vostro diciamo commento critica anche costruttiva ci permette di fare un lavoro sempre più accurato sempre più completo e quindi di darvi anche un servizio ogni giorno migliore oltre a questo aspetto vi ricordo un po' del palinsesto non tanto di questa settimana ma soprattutto della prossima che avrà qualche modifica in particolare nella settimana prima di pasqua le dirette non saranno più a 19 30 20 e poi il laboratorio alle 21 ma verrà tutto raggruppato in una sessione che va dalle 9 alle 10 di sera in particolare nella primo quarto d'ora ci sarà la trading room che quindi assume una versione un poco più ridotta nella seconda parte invece ci sarà il classico laboratorio operativo dove chiaramente quello della prossima settimana avrà un po' un contenuto di chiusura del trimestre faremo un po' il punto della situazione insieme cercheremo come sempre di capire le cose migliori che abbiamo fatto per farne tesoro nel futuro e allo stesso modo per non dimenticarselo nei prossimi tempi anche far tesoro soprattutto degli errori commessi quindi chiuderemo un po' il cerchio di questi primi mesi ci saluteremo per qualche settimana una piccola pausa pasquale e poi riprenderà il trading club fino a quest'estate senza andare oltre con a questi dettagli li riprenderemo sicuramente nei prossimi giorni nella sessione di oggi avremo paolo che deve farci vedere qualche sua azione qualche chiusura qualche presa di beneficio per qualche riguarda l'azionario il beta trading poi ci dedicheremo molto al settore petrolifero sia in campo azionario sia con le opzioni e anche con le materie prime perché abbiamo visto che i prezzi sono in rialzo e fra poco andremo più nel dettaglio di tutto quanto ciao paolo ben ritrovato a te la parola ciao matteo buonasera a tutti oggi andiamo a riprendere un po' il discorso con le nostre azioni in particolare vi lascerò come sempre uno spunto operativo per continuare un po' a praticare con la telka del beta training che vi ricordo per chi non fosse all'interno della sezione dei laboratori assolutamente l'invito è quello di farlo in piattaforma simulata in demo oggi però partiamo bene con con questa diretta perché andiamo a prenderci subito un profitto lo faremo su medifast che è un'azione che abbiamo inserito circa un mesetto fa ha fatto diciamo un periodo piuttosto laterale da quando siamo entrati noi a parte un po' gli ultimi giorni che ha avuto dei dei forti rialzi abbiamo all'interno della nostra piattaforma 20 azioni nella quale siamo andati investire investire con posizione long e la scelta in questo caso di andare a chiudere parte della nostra posizione è un po' per l'arrivo degli earnings che sono tra più o meno un mesetto se non mi sbaglio intorno al 2 maggio anzi confermo il 2 maggio e in questo motivo la motivazione appunto è questa ovvero snellire un attimino la posizione intanto incassarci comunque un discreto profitto ma con l'obiettivo poi di andare anche sugli earnings e vedere un po' come si muoverà appunto questo questo titolo ma entrando con una piccola posizione eventualmente poi possiamo preventivare anche un inserimento di una stop loss prima dell'arrivo delle notizie e quindi andiamo un po' a vedere quello che accadrà appunto con le trimestrali quindi se Matteo nel mentre ci va a chiudere poi questa posizione così vi dico anche super giù in un mesetto quanto abbiamo incassato a livello di ritorno sull'investimento perché allora chiudendo una posizione da 10 titoli l'investimento a livello di margine di 645 dollari se tu Matteo la vuoi mandare anche direttamente a mercato la chiusura che così almeno ce la sbrediamo in maniera molto rapida ovviamente l'invito rimane sempre quello ovvero che se dovessimo andare a chiudere un trade con un prezzo midpoint sicuramente è molto più valida come chiusura in questo caso vabbè giusto per lato dimostrativo siamo andati a chiudere quindi questa posizione con 71.24 dollari che è molto più valida come chiusura in questo caso vabbè giusto per lato dimostrativo che è diviso il nostro margin di 645 fa un 11 per cento in un mesetto quindi vedete che in questo caso lavorando in maniera direzionale sul titolo ovviamente a livello di ritorno sull'investimento incassiamo molto di più rispetto a una tecnica non direzionale come quella del beta trading d'altronde bisogna un po' proporzionare anche il nostro portafoglio in base appunto a quello che è il mercato e chiaramente a quello che potrebbero essere anche i nostri ritorni a livelli mensili quindi qua perfetto ne teniamo 10 e quindi vediamo un po' poi a ridosso degli earnings come ragionare su questo titolo situazione piuttosto simile anche quella che ci ritroviamo su union bank share che ho posizionato come seconda azione per facilitare poi la vostra comprensione questa era partita come un trade fatto in beta nella quale avevamo allungato su union bank share e avevamo shortato Morgan Stanley da Morgan Stanley avevamo preso 10 dollari di perdita quindi praticamente l'avevamo chiusa in pari qua lasciandola un po' sproporzionata quindi senza alcune protezioni abbiamo atteso appunto un rialzo perché comunque a livello grafico avevamo visto che il titolo stava andando bene e vedete che proprio oggi è tornata a parità è tornata in pareggio e se Matteo anche ci aggiunge alcuni studi su questo su questo titolo da file trovi già il setup vedi quello sopra la voce chiudi che così almeno lo carichi al volo vai sotto stampa che così ce l'hai subito lì a disposizione vediamo un attimino anche di analizzarlo dal punto di vista grafico in maniera molto rapida perché comunque vedendo la situazione attuale ovvero titolo che si è riposizionato dopo diverso tempo sopra la media delle bande di bollinger vediamo un RSI che potrebbe continuare a crescere perché non ancora in ipercomprato segnale MACD in rialzo quindi con condizioni ancora di crescita appunto di questa azione che dal mio punto di vista prima dell'arrivo degli earnings può arrivare anche alla trend line già posizionata intorno ad area 36 ok di strada ne deve fare ancora chiaramente ci mancherebbe però anche qua il ragionamento potrebbe essere molto simile earnings in arrivo al 23 aprile quindi ancora prima di per quanto riguarda Medifast quindi qua aspettiamo un attimino a chiuderla perché come dicevo secondo me nei prossimi giorni ci potrebbe essere ancora un rialzo del titolo e appunto andare proprio anche eventualmente a pareggio con la perdita dei 10 dollari e magari portarci a casa qualcosina qua ne abbiamo 30 di azioni quindi qua possiamo potenzialmente andarne a chiudere una ventina portarci a casa magari un profitto che vada appunto oltrepassare la perdita subita da Morgan Stanley e poi vedere sugli earnings come si comporta appunto Union Bank Share un'altra situazione che volevo guardare era quella relativa come diceva anche Matteo nell'anticipazione quella del petrolio in particolare sul petrolio noi abbiamo una posizione che è stata realizzata tra Conco Philips e British Petroleum allora Conco Philips è stata piuttosto come si può dire maltrattata rispetto a British Petroleum che sembrava molto più forte anche se comunque vedete che attualmente siamo al di là della nostra entrata quindi siamo in profitto anche su Conco Philips abbiamo già portato a casa qua con un incremento della posizione circa 44 dollari attualmente è ancora sbilanciata come vedete la posizione nella quale abbiamo più azione più investimento dal punto di vista di Conco Philips rispetto a British Petroleum però se lo vediamo oltre che dal grafico anche vedete comunque British Petroleum sta salendo in maniera molto forte dovuta chiaramente anche un po' alla crescita appunto del petrolio di cui dopo ci parlerà Matteo ma vedendo lo spread in sé che ho realizzato uno screenshot che vi volevo portare per visualizzarlo tutto insieme se Matteo ci dà una mano vediamo che lo spread è messo molto bene cioè dopo una situazione di iniziale difficoltà eccolo qua vediamo che adesso si sta riprendendo pian piano appunto avete visto che poi abbiamo fatto anche la nostra uscita abbiamo incassato qualcosina però ci sono tutte le condizioni per una ripresa di trend rialzista quindi su questa posizione volevo aggiornare un po' tutti soprattutto chi sta seguendo il beta teniamo ancora duro teniamo siamo ferrei perché comunque è sempre in relazione un po' a quello che sta facendo il petrolio in questi giorni e chiaramente qua l'obiettivo è di uscirne anche qua magari con un piccolo profitto per liberare ancora un po' di margine ed eventualmente fare altre operazioni che di opportunità in questo momento come abbiamo visto venerdì nel laboratorio registrato ce ne sono parecchie il trend per oggi ma poi lo approfondiremo probabilmente già domani con il nostro Stefano Corvi riguarda una vecchia conoscenza che è il Mandrake il Mandrake l'anno scorso soprattutto l'avete visto tutti dal punto di vista di spread trading tra future quindi utilizzando appunto lo standard Empore e il Nasdaq anche qua ho preparato uno screenshot se Matteo ce lo va a mostrare un po' a tutti e diciamo che ragionando in un'ottica qua di beta trading quindi prendendo come riferimento Spy e QQ come ETF poi per chi non riuscisse a farlo con gli ETF ci sono sempre i CFD come vi ripeto c'è una bella opportunità di andare long su questo spread perché ci sono tutte le condizioni con un RSI praticamente appena ripreso da un ipervenduto con un incrocio MACD che si sta verificando proprio oggi e quindi con magari anche una bella ripartenza per quanto riguarda questo spread quindi io diciamo ho programmato eventualmente un ingresso con dei titoli spia proporzione 5 Spy 8 QQQ giusto per vedere un attimo come si potrebbe comportare appunto questo spread nel corso dei giorni successivi però come vi dicevo insomma domani abbiamo anche a disposizione nella trading room il nostro Stefano quindi chiediamo eventualmente a lui un parere anche dal punto di vista di future e di volumi che assolutamente sono sempre la chiave di lettura per quanto riguarda tutto il mercato quindi ora tornando un po' al discorso dei petroliferi abbiamo parlato con CoPhillips e British Petroleum giro la palla al nostro Matteo che così portiamo avanti un po' il discorso dal punto di vista di spread e dal punto di vista di opzioni ottimo ottimo grazie Paolo intanto visto che c'eravamo su questo grafico ti volevo segnalare anche una divergenza tra diciamo i minimi dello spread e i minimi dell'RSI quindi un altro segnale rispetto a quello che hai detto anche tu di ripartenza ci potrebbe in effetti aiutare poi lo vediamo meglio con l'aiuto di Stefano domani assolutamente facendo vedere anche un po' le alternative con i CFD che per fare questo spread possono essere davvero molto comodi ora come annunciato da me all'inizio e da Paolo successivamente ci spostiamo sul settore petrolifero perché siamo intervenuti sia lato spread che lato opzioni quindi c'è stata qualche modifica soprattutto da parte di Andrea per le strategie in essere quindi volevamo andare prima di tutto ad indagare quelle vedere come ci siamo comportati e capire un po' meglio quello che sta succedendo nel mercato del petrolio e come ce ne possiamo approfittare esatto esatto Matteo ben ritrovato e ben ritrovati a tutti quanti in questa nuova settimana perché abbiamo fatto un intervento sia per quanto riguarda il petrolio che per quanto riguarda la SPI quindi l'S&P poi i dettagli diciamo di come siamo entrati siamo usciti i prezzi e quant'altro li vediamo come sempre domani sera nel laboratorio operativo ma vi dico subito e non preoccuparvi che di sostanziale non è cambiato niente abbiamo cambiato la nostra visione rispetto proprio alle operazioni che abbiamo posto in essere inizialmente sul petrolio del resto come si dice sono solamente due le persone che non cambiano mai idea gli stupidi e i morti noi visto che morti non siamo stupidi a volte ma fortunatamente non sempre abbiamo cambiato l'operazione sul petrolio quindi se andiamo un attimo a dare un'occhiata alla pagina proprio delle opzioni vediamo un po' anche questa questa novità eccolo qua un poco più sotto adesso qua stanno iniziando un po' ad aumentare anche le operazioni chiuse eccolo qui che cosa c'è rimasto in piedi fondamentalmente c'è rimasto in piedi un bull call in questo caso esatto 67,68 che in questo preciso momento ci sta pagando una cinquantina di dollari in pratica nella giornata di venerdì abbiamo smantellato quello che era il bear call quindi la nostra butterfly spezzata l'abbiamo fatta diventare a tutti gli effetti solamente un acquisto di call tramite un vertical spread quindi se guardiamo un attimo anche il grafico proprio di giugno andiamo un attimo a capire cosa deve succedere per farci diciamo gioire allora fondamentalmente come detto già quando il mercato vedete aveva fatto quella sparata sopra i 60 piuttosto decisa avevamo capito che non c'era più tanto trip abergati avevamo diciamo invertito un po' la nostra operazione quindi il bear call l'avevamo coperto come detto col butterfly spezzato quindi con un acquisto di call in questo momento abbiamo un acquisto di una call a 67 e la vendita di un'altra call a 68 quindi per fare questa operazione siamo andati noi in debito nei confronti del mercato e abbiamo pagato noi 170 dollari ora se a scadenza quindi da qui alla scadenza di giugno il petrolio dovesse chiudere al di sopra di 68 il nostro investimento di 170 dollari potrebbe diventare un profitto di circa 830 dollari quindi insomma davvero una buona possibilità considerando che siamo già a 64 andare a 68 è comunque un buon movimento però diciamo che il grosso è stato fatto perché si parla più o meno di un 6-7% per arrivare anche noi al nostro massimo target ovviamente non è necessario per l'appunto arrivare fino a là ci possiamo anche accontentare di un poco meno perché comunque ripeto l'investimento è abbastanza contenuto rispetto al nostro portafoglio quindi poi quando diciamo c'è da gestire i profitti è sempre un bel problema il problema grande è quando dobbiamo invece gestire le perdite comunque è giusto per dirvi che con il bear call precedente con un po' di magia nel senso lavorando un po' di bid ask nella giornata di venerdì siamo riusciti a uscire in profitto cioè da un'operazione dove stavamo perdendo più o meno 60-70 dollari lavorando un po' di bid ask siamo comunque riusciti a uscircene con un con un buon profitto che ovviamente ci fa stare più tranquilli su quest'ulteriore operazione se qualcuno per caso ha l'operazione originaria non deve assolutamente far niente perché va va benissimo anche anche quella senza problemi poi sempre per quanto riguarda diciamo l'operatività in opzioni è scaduta l'operazione sullo yen nella giornata di venerdì 5 aprile il nostro bull put ci ha pagato eccolo lì 70 dollari per ogni contratto con un margine di circa 300 come vedete il ritorno sull'investimento è stato superiore al 20% in circa 45 giorni quindi un'altra buonissima operazione anche per quanto riguarda lo yen e poi domani insomma interverremo andremo anche a vedere un po' come ci siamo mossi per quanto riguarda l'S&P 500 tramite SPY e qui mi volevo riallacciare un po' quello che diceva anche anche Paolo per quanto riguarda l'operazione fra l'S&P 500 e il Nasdaq tramite gli ETF perché nelle prossime settimane per l'appunto ci sarà diciamo il periodo caldo per quanto riguarda gli earnings che anche in termini dimanderà che in passato abbiamo visto quanto può pagare bene se per lo punto riusciamo a intervenire anche nei momenti più corretti in particolare gli strumenti che tendono a muovere anzi a smuovere letteralmente il mercato soprattutto poi il Nasdaq perché è sempre quello più volatile in questo periodo sono quei titoli che fanno parte del cosiddetto FANG che è un acronimo per Facebook Apple Amazon Netflix e Google quindi sono le cinque principali aziende che muovono triliardi e triliardi sul mercato cosa significa questo che se una effettivamente ha dei dati negativi poi tendenzialmente rischia di trascinarsi dietro un po' tutto il mercato tra l'altro ringrazio Sandro che ci ricorda che il 18 aprile quindi tra soli dieci giorni ci saranno anche gli earnings di Apple in genere queste aziende tendono ad avere gli earnings abbastanza concentrate tra loro quindi nel giro di un paio di settimane tutte tendono a scaricare quindi mi raccomando se avete idea di fare delle operazioni a ridosso degli earnings si possono fare però con le metodologie che abbiamo sperimentato anche all'interno dei laboratori operativi che possono pagare molto bene però bisogna lavorare come sempre con la statistica dalla propria parte non avventuriamoci su cose strane a ridosso degli earnings perché comunque è vero che negli ultimi mesi il mercato ha reagito bene però vi ricordo da dove veniamo che cosa è successo l'anno scorso titoli come Facebook Apple Amazon e quant'altro hanno perso anche punte del 40% in certi momenti quindi ecco non dimentichiamoci del passato che è essenziale anche poi per il nostro futuro da investitori quindi per quanto riguarda il petrolio questa è la situazione diciamo dal punto di vista delle opzioni ce la stiamo giocando in questo modo per il resto passo la parola al nostro Matteo ottimo ottimo grazie Andrea una piccola parentesi sul Mandrake che altro non è che lo spread tra S&P e Nasdaq assolutamente il ricordo che abbiamo negli ultimi tempi è di un Nasdaq che tende a sovraperformare sicuramente l'S&P nel lungo termine domani anche con l'aiuto di Sisonalgo ma soprattutto di Stefano andremo a vedere meglio questa situazione andremo a vedere meglio anche quale può essere una possibile stagionalità anche se ci sono delle chiare e ovvie differenze rispetto alle materie prime in quanto c'è un ciclo produttivo che non ha senso pensare con due indici come con le materie prime dall'altra parte come si diceva poco fa gli earnings cambio scadenza cambio contratti vanno a creare come dire nuove tendenze solitamente con gli earnings è il Nasdaq proprio a sovraperformare l'S&P 500 proprio dovuto alle società che diceva prima Andrea che sono quelle che stanno più tirando negli ultimi anni e anche negli ultimi periodi però attenzione non avventuriamoci in questo caso come in una scommessa perché è successo nel passato perché comunque gli earnings incorporano un certo grado di incertezza e quindi non prendiamoci rischi di questo tipo dall'altra parte nei prossimi giorni capiremo meglio come comportarci e se c'è qualche aspettativa da sfruttare tornando ora nel campo delle materie prime in particolare nel petrolio secondo me è fantastico quello che hai fatto vedere prima Andrea perché va ad unire più situazioni di mercato mi voglio spiegare meglio innanzitutto quello che hai detto il cambiare idea è una cosa non semplice nella vita e sicuramente anche nei mercati perché a volte ci si va un po' ad ancorare a certi pensieri ci rimangono in mente e facciamo più fatica chiaramente poi a cambiare dinamica mentre siamo in corsa il fatto è che noi abbiamo venduto delle call quando eravamo nei pressi di 60 perché ci aspettavamo uno storno diciamo maggiore non un inizio di un ribasso questo no perché siamo rimasti sempre positivi sul petrolio dall'altra parte un'attesa maggiore alla rottura dei 60 dollari e quindi quello ci avrebbe permesso di vivere con più tranquillità l'opzione dall'altra parte così non succede bisogna essere pronti e rapidi a cambiare un po' situazione o avere sempre in tasca delle strategie di copertura delle strategie alternative come ci ha fatto vedere più volte Andrea con il butterfly eccetera eccetera proprio per dormire sonni tranquilli anche in situazioni di questo tipo quindi laboratorio di domani sera con le opzioni prestateci una grande attenzione perché sono proprio queste le situazioni che alla fine dell'anno fanno sempre di più la differenza tra avere un conto in positivo e uno in negativo ovvero sapere come rigirare situazioni che ci stanno venendo contro andando avanti sempre nel campo petrolifero abbiamo visto che non solo il petrolio ma anche la benzina sta continuando a salire una previsione che avevamo già ampiamente fatto nei giorni scorsi noi siamo rimasti in questo caso lunghi sul petrolio per dare anche una certa come dire protezione al mio spread che ho sulla benzina a me sarebbe più piaciuto un investimento diretto proprio su questa commodity su un bull call o l'acquisto di un future ma giustamente Andrea anche in termini di costi e ricavi per quel che riguardano premi delle opzioni ne ha tenuto conto quindi ci siamo mossi in questa direzione così un minimo di edging viene fatto però ecco il trend pensiamo che sia ancora abbastanza solido magari non continuerà a razzo ma rimane sicuramente un'aspettativa positiva l'hating oil che è il secondo derivato del petrolio anche lui si sta comportando bene sicuramente la dinamica è meno rialzista dei precedenti credo dovuto più che altro ad una domanda stagionale ovvero la benzina tende ad essere acquistata molto in questo periodo per la cosiddetta driving season stagione della guida l'hating oil non viene acquistato esclusivamente d'inverno essendo un bene da riscaldamento ma solitamente la sua stagionalità inizia più o meno a metà estate luglio agosto è il periodo dove viene acquistato di più per approvvigionarsi durante l'inverno quindi non essendo ancora come dire il periodo della sua massima domanda sta performando probabilmente peggio degli altri due comparti però come possiamo vedere la dinamica la tendenza è piuttosto simile rimanendo nel campo del petroglio ci tenevo a farvi vedere qualcosa di interessante eccoci qua ci spostiamo un attimo su season algo così capiamo anche un po' come riconoscere certe dinamiche ma soprattutto come sfruttare queste nuove situazioni da un punto di vista operativo non solo per le opzioni ma anche con lo spread ora senza complicarci tanto la vita su un grafico del genere guardiamo solo la linea nera solo la linea nera la blu e la rossa non ci interessa ci creano veramente solo confusione questa rappresenta la linea nera la struttura termine per qualche riguardo il petrolio cioè all'aumentare della scadenza possiamo vedere come aumenta il prezzo quindi la curva è inclinata diciamo positivamente in questo caso siamo in una situazione di contango perché con l'aumentare della scadenza aumenta anche il prezzo e avviene diciamo per tutto il 2020 ma continua anche per gli anni successivi ora questa cosa però non riguarda la struttura termine del petrolio attuale ma quella di gennaio al primo gennaio eravamo in una situazione del genere quindi in contango perché venivamo anche da un periodo diciamo di ribasso comunque del prezzo del petrolio poi la tendenza ha incominciato sempre di più ad invertire come possiamo vedere ha incominciato proprio a fine dicembre e quando c'è una tendenza piuttosto positiva e continuativa i prezzi da un contango non è sempre una cosa detta e scontata si possono spostare alla backwardation vediamo ora la situazione da gennaio a febbraio a febbraio come possiamo vedere sì c'era ancora contango ma diciamo fino al 2020 o meglio fino all'inverno del 2020 perché già dalle scadenze successive quindi quelle di diciamo ottobre novembre dicembre è incominciata un'inversione quindi che cosa succedeva la curva non era più inclinata positivamente o meglio solo per una prima parte poi negativamente vediamolo poi a marzo come possiamo vedere la pendenza aumenta sempre di più arriviamo ora alla situazione attuale siamo quasi completamente in backwardation come vedete dal primo gennaio quindi non è che ci ha messo tantissimo ma nel giro di un 3-4 mesi siamo passati da un pieno contango a quasi una completa backwardation rimane ancora un po' di contango per le scadenze di bravissimo termine quindi maggio giugno luglio però già da agosto in poi cambia la pendenza e quindi si è passati un po' alla backwardation vediamo se questa pendenza continuerà e quindi si passerà completamente anche nel breve termine alla backwardation tutto questo per dire cosa per dire che sicuramente possiamo pensare di sfruttare questa cosa non andrei pertanto sulle scadenze più vicine nel tempo ma mi sposterei un po' più in là questo è il petroglio gennaio febbraio 2020 come possiamo vedere la tendenza è rialzista ma anche la stagionalità è rialzista ma facciamo il tifo per un intensificarsi della backwardation un po' come c'è stato l'anno scorso siamo arrivati in effetti a prezzi un po' superiori ma poi come possiamo vedere quasi sempre quasi sempre c'è un rientro al contango e se prendiamo come dire un po' di tempo con scadenze lontane potremmo avere una maggiore facilità per appunto puntare a questo rientro ma con un minimo di tranquillità una cosa un po' più vicina nel tempo la possiamo vedere anche sul Brent che diciamo è il petroglio europeo del Mar del Nord o comunque del Medio Oriente poi specificheremo meglio anche queste differenze la situazione è simile c'è una tendenza rialzista una stagionalità ancora rialzista ma come possiamo vedere da maggio ci dovrebbe essere un'inversione anche qua ci troviamo già in backwardation siamo vicini ai massimi dell'anno scorso ma neanche tanto distanti ai massimi precedenti quindi con un poco di pazienza possiamo andare a sfruttare questa situazione quindi qua un po' tutto quel che riguarda il petroglio per la benzina questo era uno spread in alternativa a un bull call a un acquisto di un future per proteggersi un po' sullo spread attuale quindi andando long e non più short siamo andati a prendere in questo caso come esempio novembre dicembre del 2019 vi ricordo anche prima di concludere la sessione che domani c'è un altro report sulle materie prime agricole molti nell'ultimo periodo le news maggiori le abbiamo avute il 29 di marzo vediamo domani se c'è qualche cambiamento importante non credo però mai dire mai stiamo un po' a vedere quindi se alle ore 18 vedete un po' di volatilità su mais grano soia può essere dovuto a questa notizia rimane nel mirino il cacao sono stato forse un po' timido un po' tendista ma c'è ancora tutto lo spazio anche qui per un rientro più importante al contango quindi potrebbe essere il prossimo ingresso da effettuare mentre la prossima uscita la vedo sul rame dove stiamo guadagnando un centinaio di dollari ma la stagionalità sta finendo quindi non vorrei tirare troppo la corda quindi questo un po' gli aggiornamenti per qualche riguarda il petrolio ma un po' le posizioni che abbiamo in questo momento tutti gli approfondimenti per le opzioni domani alle 21 per lo spread chiaramente il mercoledì questa sera invece vi lasciamo con il laboratorio operativo sull'intraday e quindi con il nostro Stefano sempre alle 21 grazie di essere stati con noi anche in questa sessione vi auguro a tutti una buona serata a domani grazie